Buongiorno, mi trovo qui a Delaville Spa, diamo il benvenuto al Giselle, siamo in una delle cabine dedicate appunto ai prodotti di eccellenza della Sicilia, infatti questa è la lavanda in particolare ma c'è anche la zagara, il rosmarino, che tipo di prodotti usate per i trattamenti di cui adesso ci darei un esempio? Allora, noi usiamo i trattamenti Reneporte, sono trattamenti made in Italy, La voce è un pochino più alta così ti sentono bene, quindi dicevi I prodotti Reneporte, sono prodotti made in Italy, prodotti naturali e di cui la maggior parte degli ingredienti provengono dalla Sicilia Ah ecco, benissimo, adesso che cosa andiamo a sperimentare quindi? Adesso andremo a fare il trattamento Etna Age Defined Etna Age Defined, quindi con le pietre laviche dell'Etna? Esatto Ok, allora, la nostra regia seguirà un piccolo esempio ovviamente perché non potevo, sarebbe troppo lunga la durata Devo mettermi stesa? Ok, ecco magari se illustri proprio tu, voce bene squillante, che cosa avverrà in questo momento? Allora, il trattamento inizia con il suono della campana di Burgio e dopodiché andiamo a fare il welcome touch, la detersione, lo scrub e poi il trattamento consiste anche in una doppia maschera, perciò andiamo anche a nutrire in profondità la pelle minimizzando quelli che sono anche i segni dell'età. Ok, e ci puoi far vedere in particolare queste pietre come lavorano sul, come possono lavorare sul viso? Certo, allora, le pietre sono fredde ovviamente per favorire anche il drenaggio linfatico del viso, quindi andiamo a drenare il viso e eliminare i liquidi in eccesso. Ah, perfetto, quindi sono pietre, mostriamole scure immagino, eccole. E dove vengono posizionate? Viene massaggiato il viso con le pietre. Ecco, prego la regia appunto di inquadrare proprio con un primissimo piano questo particolarissimo tipo di trattamento. Sono davvero molto levicate. È indicato solo alle donne o anche agli uomini lo possono fare? I trattamenti lo possono fare tutti. Quindi adesso per San Valentino farete anche trattamenti di coppia romantici, per cui come idea, anziché la solita cena magari si può venire qui, sorseggiare uno champagne, assaporare qualche fragola e nel contempo fare il trattamento di coppia. Sì, perché ci sono anche delle apposite, come le chiamiamo queste piccole stanze per il trattamento, con il doppio lettino. La cabina di coppia. La cabina di coppia, la suite di coppia, infatti. Ci sono anche tanti stranieri che qui a della villa, in mia assistina, vengono a fare questi trattamenti. Sì, anche perché comunque vengono anche i clienti della pelle. Certo. Non solo i clienti della CT, ma anche i clienti della pelle. Certo. Allora, io vi garantisco che è davvero molto rilassante. Probabilmente quanto durerebbe tutto il trattamento? Allora, il trattamento è un trattamento molto lungo. Dura più di 60 minuti. Ecco, noi stiamo dando un piccolo esempio per i nostri follower, se ci seguono e quindi possono in questo momento anche prendere conoscenza, di questo trattamento assolutamente innovativo e quindi io continuo a rilassarvi, a rilassarmi, a farvi rilassare. Non comprendo più nulla quasi, perché veramente l'effetto è molto rilassante. E niente, vi do un grande saluto dal Delaville Spa e ringraziamo la nostra gentilissima ospite. e a presto e continuate a seguirci. Ciao!